Niente musica perché poi me la contesti, niente musica perché poi c'è il copyright, sulla mia voce non c'è il copyright. Ogni mattina un robot di Youtube si alza per darmi fastidio. Ciao robot, non ci riuscirai a darmi fastidio cliccando sulle mie icone, togliendo il segno del dollaro. Ehi robot di Youtube, è inutile che pesti su quei tasti, sai? Perché io sono un creativo e i contenuti vuoti non mi piacciono. E' inutile che tu li promuovi, è inutile che tu li difendi. Ehi robot, basta di picchiare su quei tasti, hai capito? Le regole della community? Ma per favore. Allora robot, la vuoi smettere? Vuoi smetterla di picchiare su quei tasti? Ma non era un robot, era una mia fan. Gaia viel via la Collectifrice. Chiara che sede a te sapchwaria catticare? Ma per far ma links sono stati o appoggi alこんな ripien.